Musica Trascorsi ormai dieci giorni dalla scomparsa di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna, in corso di verifica le segnalazioni di avvistamenti che continuano ad arrivare. Abbiamo sentito l'avvocato dei genitori del ragazzo. Si allungano i tempi per la realizzazione dell'ospice pediatrico di Fano. Secondo il PD le risorse dedicate dal bilancio regionale risultano diluite, estendendo l'impegno oltre l'attuale legislatura. La replica dell'assessore regionale Baldelli e del sindaco Serfilippi. Tre pensionamenti in pochi mesi e così Fano rischia di rimanere a corto di pediatri. A lanciare l'allarme la consigliera regionale dei Cinque Stelle, Marta Ruggeri. Non solo Sant'Orso, ma anche Piazza 20 Settembre e il quartiere del Poderino, coinvolti negli eventi di Halloween, in programma il 31 ottobre. 11 opere legate ad un unico filo conduttore, il Sacro. Sono i dipinti del 24enne pesarese Marco Sferindio, esposti a Palazzo Bracci Pagani fino al 29 ottobre. Buonasera e ben ritrovati ad occhio alla notizia. Non si hanno ancora notizie di Riccardo Branchini, il giovane scomparso ormai da più di una settimana. Ci colleghiamo allora con Marco Lonigro per gli ultimi aggiornamenti. Sono passati circa dieci giorni dalla scomparsa di Riccardo Branchini, che il 12 ottobre ha parcheggiato la sua auto nei pressi della diga del furlo per poi scomparire. Nel mezzo sono stati ritrovati i documenti, il cellulare e alcuni vestiti. Oggi, dopo circa dieci giorni, purtroppo non ci sono notizie concrete. Vi raccontiamo però di una novità, di una notizia giunta pochi minuti fa in seguito ad una riunione svoltasi oggi in Prefettura. Si è deciso di sospendere le ricerche alla diga del furlo. Nei giorni scorsi però sono stati impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco, i sommozzatori specializzati, l'unità cinofila e il soccorso alpino speleologico, utilizzati per le operazioni anche dei droni con visori notturni a raggi infrarossi. In questi giorni diversi gli appelli social lanciati dalla mamma del ragazzo, condivisi da tantissime persone. Sono dunque arrivate oltre cinque segnalazioni di avvistamenti. Qualcuno sostiene di aver notato Riccardo a Bologna, altri invece a Salerno, San Severino Marche, a Perugia e al Furlo. Nelle ultime ore altre due segnalazioni sono arrivate dalle Marche. Il caso poi è giunto anche in TV, nella trasmissione Rai, chi l'ha visto. Questa mattina abbiamo intervistato l'avvocato Elena Fabri che sta seguendo la famiglia di Riccardo Branchili. Noi stiamo continuando le ricerche a tutto campo e ovviamente non si esclude nessuna ipotesi. Anche questa mattina vi è stata una nuova segnalazione e gli inquirenti ne stanno appurando la fondatezza. Ovviamente la famiglia comunque sta vivendo con profonda tristezza questo momento, però è assolutamente necessario andare avanti per capire dove si trova Riccardo. Tre segnalazioni provengono proprio dalla regione Marte, mentre le altre sono di fuori regione. Tuttavia noi chiediamo a chi ci guarda se dovesse per caso comunque vedere una persona che può assomigliare a Riccardo e provi quantomeno a scattare una foto. Per noi potrebbe essere veramente molto utile. I dettagli sono fondamentali in questi casi. Nelle ore successive alla scomparsa sono stati ascoltati gli amici di Riccardo. Le piste considerate dagli investigatori sono diverse, tra queste vi è anche l'allontanamento volontario. C'è però il più stretto riservo sulle indagini. Si cerca nel computer tra gli appunti e tra i biglietti. Mentre è arrivata la smentita che nel pacco ricevuto da ragazzo il giorno prima della scomparsa ci fosse una sim card. Sentiamo. Non comprendo perché si sia parlato, si sia divulgata questa voce della sim. In verità non è stata ritrovata alcuna sim all'interno del pacco. Sappiamo soltanto che Riccardo ha ricevuto un pacco il giorno prima della sua scomparsa. Non abbiamo alcuna contezza del contenuto. Dunque si tratta di una situazione molto delicata e oggi i genitori del ragazzo hanno voluto ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando e adoperando nelle ricerche. Vediamo le loro parole in questo post. Ligna allo studio. Ringraziamo Marco Lonigro e Voltiamo Pagina occupandoci di sanità. Non ci sono ancora le risorse necessarie per realizzare l'osfis pediatrico. Questa la lettura del bilancio regionale data dai consiglieri del Partito Democratico Micaela Vitri e Renato Claudio Minardi che affiancati dalla collega dei 5 Stelle Marta Ruggeri, dalla vicepresidente del Consiglio Comunale Fanese Sara Cucchiarini e da alcuni rappresentanti di Bene Comune, oltre che da Elmo Santini e dal dottore Carlo Alberto Brunori, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Associazione Maruzza, hanno voluto tracciare il punto della situazione davanti all'area dell'ex ospedaletto di Via Tazzoli, lì dove dovrebbe sorgere la struttura. Siamo qui davanti all'ospedaletto dei bambini che dovrebbe essere trasformato in ospese pediatrico. Una trasformazione nata da diverso tempo che è all'esame della regione, ma è una previsione che è l'angue. Michele Vitri, qual è la situazione attuale? Ha usato la parola giusta, purtroppo l'angue. Questa era una promessa della giunta a Quaroli e qualche anno fa in Consiglio regionale, all'unanimità, abbiamo approvato una mozione per far parte. Qualche mese fa, a luglio, io con un'interrogazione ho chiesto in Consiglio regionale notizie sull'iter procedurale. Mi è stato risposto che ci sono 7 milioni pronti e che entro qualche settimana sarebbe partita la gara. Invece, proprio pochi giorni fa, abbiamo avuto un'amara sorpresa. Non solo non è partito l'iter, ma non ci sono nemmeno i 7 milioni. Nel piano triennale delle opere pubbliche per il 2024 sono stati messi 0 euro per l'ospis, nel 2025 solo 500 mila euro, nel 2026 1 milione 100, quindi dopo le elezioni e tutto il resto si vedrà c'è scritto negli anni successivi. Questo ci fa purtroppo temere che non ci sia stata e non ci sia nemmeno adesso la volontà politica di far partire il progetto. È preoccupante, io con un'altra interrogazione chiedo infatti di sapere dov'è il DIP, il documento di indirizzo indispensabile per far partire il progetto, dove è il piano di fattibilità economica, quando partirà la gara d'appalto, perché ad oggi non c'è nulla di concreto, solo annunci e promesse non mantenute. Tempi purtroppo lunghi e mancate promesse da parte della giunta regionale, perché non solo non ci sono le risorse a bilancio, vengono messe prevalentemente negli anni a seguire, ovvero dopo le elezioni amministrative, quindi quando ci sarà un'altra amministrazione regionale, ma la cosa più grave è che su questo tema, quello dell'ospice pediatrico a Fano, c'è una volontà comune di centro, centrodestra, centrosinistra, ovvero tutti i documenti sia in consiglio regionale che nel consiglio comunale sono stati votati all'unanimità. Quindi un appello, un appello veramente dal profondo del cuore per dare una risposta a quelle famiglie che sono costrette ad andare fuori, e sono tantissime nella nostra regione che sono costrette anche ad andare fuori regione, affinché questa opera si realizzi al più presto. Si metta mano al progetto perché doveva essere pronto nel 2023 e ancora non è stato dato l'incarico. Continuamente rimandano, poi ultimamente non rispondono più neanche, addirittura io ho chiesto la convocazione della Commissione per le cure palliative e pediatriche che per legge deve essere convocata una volta all'anno, quest'anno ancora non è stata mai convocata, quindi è una cosa. Noi abbiamo addirittura fatto venire la responsabile nazionale e referente al Ministero, la dottoressa Franca Venini, qui a Fano, che di solito lei non si muove mai con gli impegni che ha, per lanciare anche la proposta di una RSA per bambini, che sarebbe la prima in Italia, ecco la città delle bambine e dei bambini, che si occupa anche di questo, perché darebbe la possibilità a queste famiglie che non hanno la possibilità neanche di andare a mangiare una pizza insieme, di stare una settimana al mare qui, quindi con risultati favorevoli anche per il turismo, con risposte a queste famiglie che magari possono stare insieme, perché purtroppo quando c'è un bambino sano, uno malato, quello sano si ammala psicologicamente e non guarirà più. Un diritto negato proprio, un diritto negato, perché in Italia abbiamo una bellissima legge, la legge 38 del 15 marzo 2010, quindi parliamo di una legge di 14 anni fa, che garantisce a tutti i cittadini italiani l'accesso alle cure palliative per l'adulto, alla terapia del dolore per l'adulto e alle cure palliative e terapia del dolore pediatrica. Per il pediatrico non abbiamo praticamente nulla, abbiamo 5 hospice in tutta Italia. Noi con Elmo spingiamo e portiamo avanti le nostre richieste, perché sul lato dell'adriatico, diciamo così per parlare, non abbiamo proprio, le nostre famiglie non hanno nulla ed è importante dare una risposta a questi pazienti, perché ribadisco il concetto che le cure palliative e pediatriche non sono rivolte al paziente oncologico terminale. Il 90% sono rivolte a pazienti e a famiglie con malati non oncologici, in cui l'aspettativa di vita è lunghissima. Io quando ho cominciato a lavorare negli anni 80 per questi pazienti non avevamo nulla, nascevano e morivano. Oggi nascono, li accogliamo, li accudiamo e diventano adulti. E le cure palliative stanno a fianco di questi pazienti e di queste famiglie per dare una buona qualità della vita. E restiamo sul tema, accogliendo in studio il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, buonasera e benvenuto, e l'assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli, buonasera e benvenuto anche a lui. Domanda brutale per l'assessore, questi soldi per l'ospis pediatrico a Fano ci sono o no? Certo che ci sono, ci sono 7 milioni di euro, già disponibili da agosto di quest'anno, secondo le procedure europee, perché sono fondi europei, quindi ci stupisce un po' questa strategia del dolore che offende soprattutto le famiglie che soffrono e soffrono ogni giorno per malattie a volte anche importanti. A questa strategia con la giunta a Quaroli, ma mi permetto di dire, visto che l'ho al mio fianco ed è stato anche Presidente della Commissione Infrastruttura, che è la mia omologa, dove io mandavo gli atti per la realizzazione dei lavori pubblici nella nostra regione, e quindi anche a Fano, credo che questa sia anche la strategia dell'amministrazione comunale di Sir Filippi, noi rispondiamo alla strategia del dolore con la concretezza. L'ospis di Fano vede in corso la procedura per la sua realizzazione, quella realizzazione che a Fano era stata negata proprio dal centro-sinistra nei decenni passati, anzi c'era qualcosa di più, il centro-sinistra chiudeva anche l'ospedale di Fano a favore di un ospedale unico che non sarebbe stato realizzato a Fano, bensì a Pesaro, lontano da tutta la provincia, chiudendo anche gli altri ospedali della provincia. Primo passo alla progettazione, a che punto siamo? Siamo molto avanti, già con l'amministrazione guidata da Sir Filippi ci vedremo il 30 nei miei uffici per concretizzare l'accordo di programma che darà vita alla variante urbanistica e parallelamente si svolgerà anche tutta la procedura per la progettazione e quindi poi per l'appalto integrato per la realizzazione del nuovo hospice. Quindi basta con le false notizie sulla sanità da chi la sanità l'ha distrutta. Il compito in questa fase dell'amministrazione comunale, Sindaco, è proprio quello di adottare questa variante e in questo senso come procedono le cose? Beh, direi che procedono bene, nel senso che la variante segue l'iter progettuale quindi la do per scontata rispetto a un investimento importante che grazie al governo Acquaroli e grazie all'impegno sottoscritto dell'assessore Baldelli e anche di tutta la Giunta, finalmente Fano avrà l'hospice pediatrico. Ci abbiamo lavorato in questi anni, è chiaro che sono processi importanti non è che si realizza un hospice che non era previsto da nessuna parte e che anzi il Partito Democratico, in particolar modo in campagna elettorale una settimana prima del voto, ha detto che non serviva Fano. Quindi vedere queste persone che oggi si fanno paladini di una battaglia di civiltà che abbiamo portato avanti in questi anni, mi lascia sorridere. Mi spiace che vengono, tra l'altro visto che c'erano anche i 5 Stelle quindi probabilmente sono già lanciati per la campagna elettorale noi invece non pensiamo alla campagna elettorale, pensiamo ai fatti quindi avendo un ottimo rapporto con questa amministrazione regionale puntiamo a procedere celermente con l'iter per far sì che il prima possibile ci sia la gara di appalto per l'affidamento dei lavori e si possa partire. È chiaro che l'immobile che vedete sicuramente è versato in situazioni precarie è da risistemare completamente, c'è anche da valutare lo sviluppo dell'immobile per quanto riguarda la parte dove non ci sarà l'hospice per le cure palliative pediatriche è nostra intenzione dare il massimo supporto all'amministrazione regionale e all'assessore Baldelli quindi mi auguro che ben presto le carte continuino come sono state fatte in questi mesi, in questi anni e quindi si realizzi il prima possibile questo investimento che lo ricordiamo è solamente uno dei tanti investimenti che la Regione Marche ha calato su Fano perché di prossima iniziativa la realizzazione in questo caso sono in uno step molto più avanzato della palazzina Emergenze Urgenze dove la Regione Marche ha destinato oltre 22 milioni di euro. Proviamo a parlare di tempi per quanto il terreno quando si parla di opere pubbliche sia scivoloso. A quando la variante urbanistica? La variante urbanistica naturalmente entro l'anno verrà realizzata in questo momento era previsto case popolari a livello urbanistico e il Partito Democratico che ha fatto il PRG prima delle elezioni non ha destinato a edilizia sanitaria quindi noi nel giro di due mesi visto che l'immobile è di proprietà pubblica non avremo problemi ad avviare l'iter per la variante che nel giro di sei mesi si realizzerà. Successivamente ci sarà la progettazione e quindi l'appalto. Una data per il bando di progettazione e per l'appalto? Se il Comune di Fano non troverà ostacoli con l'accordo di programma per la variante urbanistica parallelamente noi procederemo con la progettazione e il bando per iniziare subito dopo la procedura di demolizione dell'attuale struttura dell'ospedaletto per una nuova struttura, quindi l'ospice pediatrico che però sarà polifunzionale. Non sarà solo hospice pediatrico ma stiamo pensando a riabilitazione e anche a tanti altri servizi territoriali che servono alla comunità. Ricordiamo che in Italia esistono solo 5 hospice pediatrici e questo sarà il sesto, grazie ad un lavoro fatto dalla Giunta Acquaroli insieme al, lo devo dire, attuale sindaco di Fano al tempo presidente della Commissione Infrastrutture che presentò tra l'altro una mozione per la realizzazione a Fano dell'ospice pediatrico. Dice bene Luca quando dice che a Fano sono destinati altri investimenti. Stiamo parlando di circa 100 milioni di investimenti sulla città di Fano, penso alla bretella Fano-Marotta, alla variante, alla strada statale 16 o penso in tema di sanità alla salvaguardia dell'ospedale di Fano con la nuova palazzina delle emergenze e urgenze e avevamo detto insieme a Luca anche in campagna elettorale perché noi siamo abituati a rispettare quello che diciamo e la parola data che subito dopo la palazzina delle emergenze e urgenze avremo dato avvio alla progettazione e realizzazione del nuovo hospice. Questa è la realtà. Grazie all'assessore regionale e alle infrastrutture Francesco Baldelli e grazie al sindaco di Fano, Luca Serfilippi noi continuiamo ad occuparci di sanità con la capogruppo dei 5 Stelle in consiglio regionale Marta Ruggeri che ha presentato un'interrogazione sulla carenza di medici pediatri nel territorio. A Fano ne sono previsti 11 ma attualmente ne restano in servizio soltanto 9 e sempre a seguito di pensionamento a dicembre si ridurranno ad 8. Alla Ruggeri la risposta arrivata dall'assessore Salta Martini non ha convinto. Sentiamo perché. Quando si tratta di medicina di base e di medici di famiglia la carenza dei pediatri si fa ancora più sentire in modo particolare ovviamente nelle giovani famiglie. Marta Ruggeri hai affrontato questo argomento in questi giorni in consiglio regionale quali sono state le tue osservazioni e quali sono state le risposte? Sì, il problema è un problema assolutamente generale perché riguarda tutta la regione ma calandoci nella nostra città che è quella di Fano il distretto fanese prevede la presenza di 11 pediatri e purtroppo siamo sotto di due perché c'è stato un recentissimo pensionamento del dottor Tonelli e del dottor Bellagamba che sono due colonne portanti della pediatria fanese e i genitori, i giovani genitori si sono visti ricapitare una lettera con cui venivano informati che si sarebbero dovuti collegare al sito o recarsi negli uffici dell'Ast per cambiare, per cercare un sostituto il problema è che con la carente programmazione che c'è stata negli anni passati non abbiamo un numero sufficiente di giovani specializzati che possano sostituire pensionamenti non nell'immediato però prossimamente, nei prossimi mesi andrà in pensione anche la dottoressa Dami quindi si creerà un'altra voragine diciamo per i giovani assistiti e l'assessore Saltamartini ha dato una risposta che secondo me non è soddisfacente perché ha parlato di aumento del massimale di pazienti per ogni pediatra però siamo già quasi al limite per tutti e poi è stata fatta una selezione di emergenza, diciamo così ma ci sarà come esito lo spostamento di pediatri dall'introterra alla costa quindi pare che si sposterà da Fossombrone a un pediatra e forse un altro da Cagli ma venendo qui lasceranno scoperto un'altra zona della nostra provincia quindi nell'immediato una soluzione praticabile purtroppo non c'è questo è un gravissimo problema è anche un altro problema quello invece del cambio del medico cioè quando un medico va in pensione alla scelta di un altro medico crea dei problemi perché poi andare al poliambulatorio fare l'appuntamento e fare l'attesa insomma non è piacevole no assolutamente non è piacevole abbiamo visto immagini anche foto di lunghe code e questo è un disguido che dovrebbe essere sanato con un sito funzionante perché in effetti nelle lettere che arrivano a casa c'è l'indicazione della possibilità di effettuare questo cambio tramite sito ma per lungo tempo il sito non è stato funzionante e anche su questo punto avevo fatto un paio di domande all'assessore ma non ho avuto risposte presentati gli eventi di Halloween a Fano a Sant'Orso in piazza 20 Settembre nel quartiere Poderino tanti gli appuntamenti e le proposte per i più piccoli ma non solo ce ne parla Filippo Pucci quest'anno gli eventi legati ad Halloween si triplicano nella città di Fano non sarà solo e soltanto il quartiere di Sant'Orso ad essere coinvolto nuovamente ma anche piazza 20 Settembre e il quartiere del Poderino più esattamente nella palestra della Nuti e nell'area esterna il 31 ottobre quindi la città sarà coinvolta da giochi a tema sport, laboratori creativi spettacoli di fuoco e comici musica e tante attività grazie alla collaborazione di diverse associazioni ed enti cittadine partiamo dalla bella storia di Sant'Orso e quindi un bel momento nel quartiere con il coinvolgimento di tantissime associazioni quasi 18 associazioni con la Croce Rossa la protezione civile c'è sei capofila che ha coordinato e organizzato questo bel momento anche con l'associazione appunto del quartiere come noi di Sant'Orso e la parrocchia con delle belle attività abbiamo voluto mettere altri tipi di iniziative che sono state promosse diciamo come da parte del jump con la palestra Nuti con diverse giornate dove vengono coinvolti i momenti di divertimento ma legati anche all'attività motore allo sport e abbiamo pensato di fare quest'anno un bel momento anche nella piazza in piazza 20 settembre per coinvolgere il centro cittadino e non solo i bambini i ragazzi e le famiglie quindi con un grandissimo coinvolgimento anche da parte degli esercenti che hanno di buon grado accolto questa iniziativa io ringrazio i consiglieri Marco Bavosi e Davide Pieretti perché sono stati i giovani consiglieri con deleghe alle politiche giovanili alla pace e alla legalità a fare un po' d'accollante con tutto questo tipo di iniziative tutto ciò vuole innanzitutto mettere in rete le associazioni tra loro per cercare di organizzare questi bei momenti che non sono solo di divertimento legati alla festa in quanto tale ma sono legati a diciamo un momento di socializzazione tra i ragazzi tra i giovani tra le famiglie rivivere i quartieri rivivere determinate situazioni come dicevo prima anche sportive e rivivere il centro il centro città è un momento per dare così l'impulso in questo in questo periodo prima del Natale anche per come dicevo prima permetterete le associazioni per creare tra di loro sinergie e condizioni anche per il futuro per fare altro tipo di attività e quindi c'è oltre alla festa e al divertimento c'è tanto altro che è la socialità la interdisciplinarità e il collegamento tra più enti quindi è questo di cui credo che la città abbia bisogno in prospettiva e finalizzato chiaramente a tanti altri momenti con Cristiana Guerra abbiamo conosciuto l'artista Marco Sperindio che a Palazzo Bracci Pagani ha inaugurato la mostra intitolata Vertigine Solare visitabile fino al 29 ottobre L'arte non è un gioco nonostante ciò mi diverto molto sono le parole di Marco Sperindio artista 24enne pesarese diplomato in tecniche audiovisive e multimediali nel 2019 e prossimo al diploma di secondo livello all'Accademia di Belle Arti di Urbino che ha inaugurato mercoledì scorso la sua mostra Palazzo Bracci Pagani dal titolo Vertigine Solare 11 le opere accomunate da un'energia unica creata dalla sua passione per la pittura con un filo conduttore la natura sacra e spirituale dei suoi soggetti Marco che cosa significa Vertigine Solare? è il senso profondo di questo percorso che come una vertigine che scuote il tuo animo può essere inizialmente un po' destabilizzante però per appunto essendo una vertigine solare nel momento in cui scegli di intraprendere questo viaggio sarà inevitabile raggiungere il sole dunque la luce e l'oro che sono tutti simboli del divino e appunto di Dio e proprio alle sue spalle vediamo un simbolo di oro in questo caso l'oro simboleggia la croce che è un simbolo per appunto universale che io tratto io sono molto affascinato da tutti i simboli spirituali universali che possono unire tutte le culture esistenti e tutti gli uomini di conseguenza che vogliono intraprendere questo viaggio verso la luce come si evolve il suo percorso artistico negli anni? sotto un punto di vista puramente tecnico io utilizzo l'acrilico perché rispetto all'olio mi permette di lavorare sul quadro in meno tempo ed è quello che ricerco un vero realizzare il quadro in poco tempo a seconda di quello che sento nell'immediatezza e per quanto riguarda invece l'uso del metallizzato io ci tengo particolarmente perché mi ha permesso di utilizzare l'oro l'argento il bronzo che comunque hanno tutti anche il rame per esempio un simbolo estremamente forte quindi li ritengo necessari per la mia pittura da cosa deriva la connotazione spirituale delle sue opere probabilmente dalla mia estrema curiosità direi inizialmente curiosità nei confronti dei testi sacri e anche delle profezie dei vari maestri dei vari mistici che hanno rappresentato certe verità universali che poi ho letto ho analizzato studiato e compreso non solo a livello mentale naturalmente nel tempo e sono arrivato anche a concepire queste verità con lo spirito Marco le sue spalle l'albero della vita che cosa rappresenta per lei? l'albero della vita sicuramente è un simbolo molto forte che simboleggia per appunto la rinascita il rinnovamento dello spirito e per di più una cosa a cui tengo molto unisce praticamente tutte le culture spirituali del mondo che cosa vuol trasmettere con le sue opere a tutti coloro che verranno a visitare questa mostra? sicuramente il fatto che un percorso del genere inizialmente può spaventare magari lì per lì può sembrare tragico perché significa iniziare praticamente da zero dall'ombra dalle ceneri se vogliamo però se scegli di intraprenderlo con tutte le tue forze significa che il tuo spirito ha fatto una scelta e quindi sarà inevitabile raggiungere la luce dopo il suo diploma qual è il suo sogno? che cosa vorrebbe fare? il mio sogno è quello di lavorare come artista e di continuare ad essere tramite di queste verità c'è qualcuno che vorrebbe ringraziare per questa mostra? voglio ringraziare la mia ragazza Zainab che per di più è stata la curatrice di questa mostra e ha scelto lei i quadri e la disposizione e personalmente anche se la mia mostra devo dirlo mi ha tolto il fiato inoltre voglio ringraziare Matteo Montani artista romano per aver scritto il testo critico in maniera eccelsa e dopo il Tg le previsioni in meteo a seguire lo speciale dedicato alla camminata in rosa che si è svolta domenica scorsa a Fano per sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione del tumore al seno vi accompagnerà poi la replica della puntata di teleracconto con Giorgio Sorcinelli direttore dell'associazione Olea e presidente dei viandanti dei sapori e Luca Litti noto ristoratore di Sant'Angelo in Vado per finire vi ricordiamo un numero il 338 49 68 250 di cui servirsi per inviare video foto o segnalare disservizi disponibile anche il gruppo ufficiale Facebook Reporter di strada by Fano TV dove condividere le vostre segnalazioni grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata grazie a tutti